Senza offesa per nessuno, però mi sembra un po' un dibattito surreale sul fatto di 10 miliardi di qua, il taglio o non taglio, anche perché come ricordava lei prima, quei soldi lì servono solo ed esclusivamente ad evitare l'aumento dell'IVA, quindi non sono a copertura delle roboanti promesse di Renzi che per essere in qualche modo, per diventare qualcosa di concreto devono avere coperture ben diverse. Ma il dato, sentivo prima Andrea Romano che diceva, le riforme che abbiamo fatto stanno dando i loro risultati, a noi non sembra assolutamente, anche perché c'è un'unica riforma vera, complessiva, poi senza guardare nei dettagli da fare in questo Paese, cioè se manca la capacità di produrre, se manca la produttività, se manca la capacità di aumentare il prodotto interno lordo, è chiaro che poi tutti i conti vanno a scatafascio. A questo non è stato dato nessun tipo di supporto, questo è il dato vero, perché se le riforme avessero funzionato nei primi sei mesi di quest'anno non si, sarebbero chiuse 72 mila partite IVA, perché questi sono i numeri veri. Ora, non stiamo qui a discutere colpa di uno e colpa dell'altro, però la discussione reale sarebbe quella a capire, anche lo stesso Salvini quando è stato da Mattarella settimana scorsa ha detto, sulle riforme noi ci siamo a dialogare, chiaramente però devono essere fatte delle proposte realizzabili. Allora a quel punto, in maniera assolutamente laica, le andiamo ad analizzare e se c'è qualcosa che va in favore del mondo del lavoro e quindi per forza di cose delle imprese, perché il lavoro lo si crea con le imprese private, non assumendo 100 mila persone nel pubblico impiego, perché quello è il partito della spesa pubblica a quale noi non aderiamo sicuramente, allora ci si può fare un ragionamento. L'altra questione è che sull'Europa, io non vedo tutta questa credibilità, però vedo una possibilità proprio legata all'esito porocambolesco della questione greca, cioè la possibilità di andare in Europa e rinegoziare per quello che ci compete alcune parti dei trattati internazionali.